Musica Siamo a Campo Cavallo di Osimo in provincia di Ancona per il quindicesimo Gran Premio ad Alberto Gabrielloni venticinquesimo Memorial Enzo Casavecchia, ventiduesima Ruota d'Oro Diego Schiaroli gara ciclistica della categoria Juniores organizzata dalla Campo Cavallo FN Mengoni ci troviamo di fronte al santuario della Madonna di Campo Cavallo dove la leggenda racconta che il 16 giugno 1892 l'immagine della Madonna sul do lacrime il 17 giugno dello stesso anno sotto gli occhi di diversi testimoni la Vergine mosse gli occhi dopo la consueta e tradizionale benedizione il via di questa gara e con le immagini siamo passati al primo passaggio gruppo compatto 11 giri da percorrere per un totale di 100 km con una salita non particolarmente impegnativa ma che ripetuta per ben 9 volte poi alla fine rimane sulle gambe è già il primo tentativo di fuga il numero 105 Stinchelli della Petrignano che ci prova il suo vantaggio massimo è di 25 secondi nel corso del terzo giro un tentativo di fuga da parte di Orlandini della Porto San Terpilio insieme al suo compagno di squadra Pignati con loro numero 14 all'Aui della Spendolini Costruzioni il numero 135 Milano della Fantini Mippo il loro vantaggio massimo è una quindicina di secondi ma il gruppo li riprende quarto passaggio due uomini al comando Calzola del Petrignano, Petrignano particolarmente attivo in questi primi giri e Genobile della Bevilacqua il loro vantaggio massimo è 22 secondi il loro vantaggio massimo è www.mesmerism.info quinto giro insiste Calzola mentre non troviamo più Genobile dal gruppo cercano di uscire in tre Morolli o lei dell'Elite Service Cesenatico e Azzolini della Rinascita Grazie a tutti i nostri spettatori gruppo o quel che resta del gruppo compatto in questa tornata mentre ci stiamo avvicinando alle fasi calde della gara Grazie a tutti i nostri spettatori Mancano pochi giri al termine ancora il gruppo è compatto Grazie a tutti i nostri spettatori Ed ecco l'azione che si rivelerà decisiva per il risultato finale della gara ci provano in tre Lupini del Petrignano, Perna della Zero K e capo di casa Fabrizio della Bevilacqua dal gruppo stanno provando ad uscire all'inseguimento dei tre numerosi ragazzi Va così a formarsi un gruppo composto da nove unità Andiamo a vederli Col 97 Lupini della Petrignano Col 30 Silenzi del Porto Sant'Elpidio Col 163 Perna dello Zero K Col 141 Capo di casa Fabrizio della Bevilacqua Col 71 Galuzzi Elite Service Cesenatico Col 36 Pignati del Porto Sant'Elpidio 139 Gentile della Bevilacqua Sport 147 Petrigni del Pedale Sant'Egidiese e 55 Meofelis della Cremonese 1891 E mentre transitavano i nove abbiamo visto Fabrizio Capo di casa in leggera difficoltà Siamo all'ultimo giro e come intravisto dalle immagini precedenti Capo di casa perde contatto e rimangono in otto Nel corso dell'ultimo giro la situazione cambia di nuovo riesce a sganciarsi Perna Simone dello Zero K e a prendere un discreto margine mentre sui sette rivengono altri corridori da dietro Siamo giunti così alla fine di questo quindicesimo per un premio ad Alberto Gabrielloni qui a Campo Cavallo di Osimo aspettiamo il vincitore Simone Perna dello Zero K Eccolo transitare davanti a noi Simone Perna secondo posto per Meofelis della Cremonese 1891 terzo posto Silenzi Marco della UC Porto Sant'Elpidio quarta piazza Lupini Michele del Petrignano Quinto posto Pignati Alberto del Porto Sant'Elpidio Sesto Corradini Michele Petrignano Settimo Marcellusi Daniel Tutti a ruota Petrignano Ottavo Galluzzi Michael del team Lisservi Cesenatico Nono Radice Raffaele Spendolini Gianmi Team Decimo Gentile Loris Bevilacqua Sport Pescara Settimo Marcellusi Daniel Tutti a ruota Petrignano Settimo Marcellusi Daniel Tutti a ruota Petrignano Settimo Marcellusi Daniel Tutti Assettila Flying Express Allo Grazie a tutti. Grazie a tutti.